Senatore Faraone, da Caltanissetta parte la costruzione di un percorso del vostro partito. Parte dai giovani, come lei ha detto, ma parte anche e soprattutto dai programmi. Quali sono le esigenze nissene che lei pensa debbano essere messe al primo posto? Una è alle nostre spalle. L'impegno che abbiamo preso oggi e l'impegno che abbiamo preso nel tempo è di lavorare affinché questa città continui ad essere protagonista in ambito di giustizia. Poi c'è tutta la questione che riguarda la costruzione di percorsi che vedano un investimento sul piano nazionale di ripresa e residenza che non si perda. E poi c'è tutta la questione che riguarda l'energia che sta vedendo crescere le bollette di tutti i cittadini italiani, compresi nisseni e bisogna intervenire per evitare di essere dipendenti dalla Russia, a maggior ragione oggi che c'è una guerra e questa dipendenza ci costa tanto. Le città del centro Sicilia che possano diventare area metropolitana, è un'idea sulla quale battete da tempo ed è un'idea che potrebbe essere veramente di rilancio per questo centro Sicilia che è lontano dal resto dell'isola al momento? Assolutamente sì, ormai si ragiona per economia di scala anche quando amministri e quindi avere e immaginare infrastrutture, percorsi amministrativi che coinvolgono un'area più vasta rende tutto più efficiente, per cui ragionare anche per l'entroterra siciliano come un sistema, come una rete credo che sia assolutamente indispensabile. Si parte dai giovani, il vostro coordinatore, quello che avete presentato oggi alla stampa, è un giovane a 44 anni e tutto sommato ancora a 44 anni un politico ancora giovane, da lui partite per altri incarichi, altre nomine e non solo? Oggi abbiamo mostrato i volti di un gruppo dirigente che è solidissimo, per chi conosce i volti che hanno fatto politica in questi anni a Caltanissetta si rende conto che il nostro partito è un partito di primissimo piano naturalmente dobbiamo aggregare donne, ragazzi che abbiano voglia di fare politica e questa voglia dobbiamo fargliela riscoprire noi, allontanandoli dall'astenzionismo e questo lo fai con l'attività giorno per giorno.